Il nostro progetto gira tutto attorno alle persone e gira attorno ad un clima di normalità, i servizi che noi potremmo ridare alle persone che piano piano nel tempo sono stati completamente abbandonati o perlomeno trascurati e poi naturalmente uscire fuori da questo dissesto che fa lavorare in dodicesime e che ha costretto l'amministrazione attuale a versare i cittadini con una serie di tasse e una serie di cabelli che spesso non hanno portato nulla di buono, ma che sicuramente hanno fatto in velocire tutte le varie categorie che sono stati costretti a pagare un surplus per poter mandare avanti la macchina comunale. Io presento la mia lista che è fatta di persone, anche di persone che hanno fatto politica con grande esperienza, di persone che si occupano del sociale, ma anche di professionisti e poi in squadra ho un ex sindaco di Ragona che lo è stato per 10 anni, che è Biagio Bellanca, che ci porterà la sua esperienza soprattutto in materia di tributi e di rifiuti e poi abbiamo un'altra persona che è il geometra Peppe Sprio, che è un professionista apprezzato da tutti.